Giornata di annunci in casa Brindisi. La dirigenza Bianca Azzurra ha infatti annunciato due nuovi arrivi. Si tratta del tersino classe 1989 Marco Calderoni con oltre 300 presenze tra i professionisti con le maglie di Piacenza, Ascoli, Bari, Latina, Grosseto, Novara, Lecce, Vicenza e che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia della Fermana. Il calciatore si è legato alla squadra adriatica fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo per il prossimo anno. Per quanto riguarda invece sempre la linea difensiva è arrivato a titolo temporaneo in prestito dall'Avellino il giovane calciatore Luca Falbo difensore classe 2000 cresciuto nelle giovanili di Roma e Lazio e che ha vestito anche le maglie di Viter, Bese e Monopoli. In uscita invece ufficializzata la rescissione del contratto con Maric Fal e l'accessione a titolo definitivo alla Turris dell'esterno Giuseppe Nicolao. Il mercato Bianca Azzurra ovviamente non si ferma tra entrate e uscite. La società adriatica è alla ricerca di almeno un altro centrocampista centrale di un attaccante e probabilmente anche di un altro difensore. Ovviamente tutto questo da valutare anche su quelle che potranno essere nelle prossime ore, nelle prossime giornate, le uscite. Intanto però c'è una gara da preparare con il Benisi che scenderà in campo sabato sera a Catania. Un match sulla carta proibitivo ma con la squadra Bianca Azzurra che vuole cercare l'impresa per trovare un risultato positivo che possa muovere la classifica e dare anche morale per il proseguo della stagione.